Musica Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6 L'Abruzzo conta i danni il giorno dopo l'alluvione che ha colpito la marsica e che ha fatto due morti nell'Aquilano una donna di 51 anni travolta dal crollo del muro di contenimento della sua casa Civitella Roveto è un 67enne di Tagliacozzo trovato morto nella sua cantina allagata e un ferito di 25 anni oltre 100 le situazioni di emergenza che hanno visto l'intervento dei vigili del fuoco soprattutto nella valle Roveto ma andiamo a vedere la situazione a Canistro nel servizio di Francesca Romanatesti Canistro il giorno dopo l'alluvione conta i danni e lavora per liberare case, strade e negozi dal fango dalle 18 di ieri sera si lavora senza tregua Queste cose non erano mai capitate almeno a memoria dei più anziani di Canistro ieri sera chiedevo a varie persone, mi dicevano che non si ricordavano, non avevano memento di una situazione del genere Si parlava di persone che erano state sfollate dalle proprie abitazioni, due punti di raccolta poi invece si è risolto in un altro modo Abbiamo sì risolto, poi abbiamo dislocato queste persone nelle abitazioni di parenti, di amici che inizialmente erano situate nell'ex comune, nella chiesa A creare danni maggiori la presenza di un affluente del fiume Liri, il rio Sparto che taglia in due il centro della città e che con la furia dell'acqua ha distrutto tutto quello che ha trovato sul suo cammino Questa è via Santa Croce, la via che al momento preoccupa di più la città di Canistro Ci sono mobili fuori, ci sono uomini al lavoro, ci sono i vigili del fuoco che cercano di aspirare l'acqua che ancora si trova all'interno delle case Qui dietro di noi poi c'è anche un istituto che ospita all'interno tantissimi anziani che nella nottata di ieri sono stati fatti andare ovviamente altrove Si è riempito il canale dello scolo del fiume, fiumiciattolo perché in realtà è un fiumiciattolo con tutti i detriti che sono arrivati e l'acqua è tramboccata all'interno della struttura Mi sono affacciato qui dove sta il torrente, l'ho visto che già stava stralibando Abbiamo cercato di chiudere le porte, man mano l'acqua ha cominciato ad alzarsi più di mezzo metro, abbiamo fatto evacuare questa gente ospite sopra i piani e man mano l'acqua aumentava fino ad arrivare allo zoccolo all'incirca di 80 centimetri Questi sono stati i danni causati dall'esondazione Guardate, c'è una porta che è stata completamente divelta e c'è anche una saracinesca che è stata completamente piegata Inoltre i vetri di tutte le attività commerciali sono stati completamente rotti dalla forza dell'acqua Il fango ha raggiunto anche le condotte e l'acqua non è potabile I vigili del fuoco hanno provveduto a portarci delle bottigliette d'acqua Attualmente non è possibile fare niente con l'acqua che scorre dai rubinetti? No, niente Ancora al lavoro, adesso si contano i danni Nelle abitazioni quali sono i problemi più grandi? Concelatore, frigorifero, tutti i elettrodomestici che c'è, i divani Tavoli, tutto Da che ora siete a pulire? Beh, è smesso di piovere ieri sera, non lo so, verso le 6 fino adesso Canistro continua a lavorare per ripristinare strade e viabilità La conta dei danni per ora si attesta sui 10 milioni di euro La provincia di L'Aquila ha dichiarato lo stato di calamità naturale E dai comuni limitrofi continuano ad arrivare volontari per aiutare nelle operazioni di sgombero messa in sicurezza e pulizia Ed ora spazio alle previsioni del tempo a cura di abruzzometeo.org e quindi con il nostro Giovanni De Palma Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con le previsioni meteo La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria posizionata sull'Europa centro-occidentale che convoglia masse d'aria fredda verso le nostre regioni centro-settentrionali e nelle prossime ore l'aria fredda tenderà a raggiungere la nostra regione dove il tempo rispetto alla giornata di ieri è decisamente migliorato in quanto non c'è più una linea temporalesca che ha dato luogo una linea temporalesca stazionale che ha dato luogo a frequenti manifestazioni temporalesche più frequenti sul settore occidentale della nostra regione temporali che hanno dato luogo a precipitazioni anche molto abbondanti ora questa situazione è cambiata, il tempo è in miglioramento anche se c'è da aspettarsi una graduale e generale diminuzione delle temperature a partire dalla giornata di domani in quanto è in arrivo l'aria fredda che attualmente è presente sulla Francia che inizierà a riversarsi proprio sulle nostre regioni centro-settentrionali il tempo sarà in miglioramento però permarranno condizioni di variabilità annuvolamenti alternate a schiarite più frequenti le schiarite sul versante orientale della nostra regione mentre annuvolamenti consistenti potranno tornare a interessare il settore occidentale e la marsica soprattutto nella serata di venerdì e nelle prime ore della giornata di sabato con possibili precipitazioni ma non saranno fenomeni particolarmente intensi la tendenza successiva evidenzia un graduale miglioramento del tempo almeno fino alla giornata di domenica ma poi dovremo attendereci un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche poiché la vasta circolazione depressionaria presente sulla Francia tenderà gradualmente a spostarsi da prima verso Levante e poi a scivolare gradualmente verso le nostre regioni adriatiche favorendo un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione soprattutto sul versante orientale dove è prevista anche una nuova sensibile diminuzione delle temperature bene, per il meteo è tutto per nuovi dettagli si consiglia di seguire tutti gli aggiornamenti sul sito www.abruzzometeo.it buonasera sit in questa mattina del Movimento 5 Stelle a Pescara per chiedere le dimissioni del sindaco Marco Alessandrini dopo l'ordinanza retrodatata sul mare inquinato Paolo Renzetti Enrica Sabatini dimissioni subito Pescara tradita il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del sindaco Alessandrini Siamo di fronte a un fatto gravissimo il sindaco che ammette di aver falsificato un'ordinanza retrodatandola un fatto grave che si lega a tutte le volte in cui il sindaco non ha avuto la possibilità e non ha detto la verità in consiglio comunale quando gliel'abbiamo chiesto in commissione straordinaria, in commissione controlli di vigilanza in regione in comune in tutte le interviste ogni volta che gli è stato chiesto dai cittadini e scopriamo oggi la verità una verità di fronte alla quale anche i consiglieri comunali della sua maggioranza non possono più far finta di nulla per questo abbiamo inviato, invieremo una mozione di sfiducia nuovamente ai consiglieri di maggioranza ci serve una sola firma per portarlo in consiglio comunale e sfiduciare questo sindaco che non ha più la credibilità, la fiducia e neanche il diritto di stare a governare una città che chiede invece tutt'altro Enrica Sabatini è pronta a candidarsi a sindaco di Pescara? Sì, sarà la decisione aspetta agli attivisti che decideranno se sarò io il candidato sindaco io sono pronta come loro prima oggi ancora di più abbiamo acquisito esperienze, competenze, capacità c'è una squadra c'è una squadra di persone pulite, oneste che vogliono cambiare questa città e lo vogliono fare in meglio Lei ha parlato di questa firma che mancherebbe per la sfiducia al sindaco ma secondo voi ci sono realmente le possibilità che questa tredicesima firma possa arrivare? Oggi il sistema PD secondo me sta scherchiolando tutte le liste anche interne o gli altri rappresentanti del PD iniziano a capire la verità dei fatti e spero e faccio un appello a loro a questi 20 consiglieri che ce ne sia almeno uno che con senso di responsabilità e anche rispetto verso i propri elettori faccia un gesto che oggi è dovuto e necessario Nonostante le polemiche quindi e la richiesta di dimissioni da parte delle opposizioni il sindaco di Pescara Marco Alessandrini prosegue per la sua strada rimandando al mittente anche le voci di dissidi interni al Partito Democratico Ascoltiamo Sindaco Alessandrini non si dimette le opposizioni chiedono la sua testa però lei è deciso più che mai di andare avanti Certamente le mie dimissioni non sono in alcun modo all'ordine del giorno il senso di questa conferenza stampa è quella di chiarire i fatti che in barba al segreto istruttorio sono precipitati sull'opinione pubblica e chiarirli nel senso che l'attività a cui il sottoscritto si è sempre conformata è stata quella di massima attenzione alla salute pubblica la cui tutela non è mai venuta meno poi qui ci sono aspetti formali su cui diciamo si discute nel palazzo di Vialofeudo questi aspetti formali noi siamo assolutamente tranquilli in ordine al fatto che non abbiano riflessi penali perché la salute pubblica ripeto mai è stata messa in discussione il tema è quello di due ordinanze di due ordinanze non pubblicate di due ordinanze veridiche nel contenuto e non offensive della salute pubblica ecco su questo io credo proprio che non vi siano in alcun modo i presupposti per ipotesi di dimissione e andiamo avanti tranquillamente in questo mestiere tanto impegnativo quanto bello lasciando alla magistratura le questioni giudiziarie c'è però il problema politico qualcuno parla anche di freddezza del partito democratico nei confronti del sindaco Alessandrini è così o sono solo indiscrezioni giornalistiche? ma io devo dire che in queste ore sin dalla giornata di ieri ho ricevuto molte attestazioni di stima e di solidarietà provenienti non solo dalla mia comunità politica ma da una comunità cittadina più vasta per cui francamente non mi sembra un problema questo L'ambasciatore di Israele in Italia Noar Giloni è stato ospite dell'Università di Teramo questa mattina per l'apertura della edizione 2015 della Scuola di Storia e Didattica della Shoah Alfredo Primante Io credo che è importantissimo perché ricordare il passato è dare un'elezione per il futuro per non ripetere questi orribili tempi del passato e per questo credo che è importantissimo continuare a studiare per il futuro generazione per i giovani Naor Giloni ambasciatore di Israele in Italia è stato questa mattina a Teramo nell'aula magna del campus per partecipare all'apertura dell'edizione 2015 della Scuola di Storia e Didattica della Shoah organizzata dall'Università degli Studi di Teramo e dalla rete universitaria Giorno della Memoria in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca la Scuola di Storia e Didattica della Shoah giunta alla quarta edizione coordinata dalle facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione è gratuita e aperta a tutti ma rivolta principalmente agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado è un impegno sempre più forte nella formazione dei giovani per una formazione non solo tecnico-scientifica e culturale in generale ma per la formazione dei cittadini di domani oggi inauguriamo il corso di storia didattica della Shoah e lo facciamo alla presenza di Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Israele perché è una presenza che a cui attribuiamo per tanti motivi una grande importanza una grande rilevanza e siamo convinti che grazie anche alla presenza dell'Ambasciatore si possa raggiungere un bel obiettivo credo che devo parlare della importanza di studiare il passato per il futuro quello che ho detto prima perché è importante che l'Università di Teramo ha deciso di aprire questo corso che credo che dal punto di vista sociale storicamente anche per presente in Italia che ci sono problemi qui anche con immigrazione con economici che arrivano di quelli anche problemi sociali che è importante ricordare il passato presente oggi all'Università anche un altro ambasciatore l'Ambasciatore d'Albania sulla diversità linguistica l'Ateneo di Teramo è convinto che la diversità sia un elemento di grande grande ricchezza si è tenuto questa mattina a Pescara un convegno organizzato dalla UIL a Bruzzo per parlare della riforma delle province e dei lavoratori dell'ente della situazione creatasi nella nostra regione ha parlato il segretario confederale nazionale Antonio Foccillo ascoltiamolo entro il 31 di ottobre le regioni in tutta Italia dovrebbero stabilire quali sono le funzioni e quindi il personale che passerà o alle regioni o all'area vasta oppure ai comuni e il restante personale è in esubero per cui andrà in mobilità e poi se non ci saranno posti disponibili sarà in disponibilità e poi rischia il licenziamento in Abruzzo c'è un piccolo passo avanti la regione ha approvato una legge proprio in questi giorni una legge che però definisce alcuni criteri alcuni orientamenti ma deve essere poi appoggiata con interventi successivi che chiariranno le questioni in Abruzzo oggi gli esuberi sono circa 500 e il dato può crescere non può diminuire perché c'è problema che la legge affronta in modo parziale sia per la polizia provinciale e sia per le agenzie per l'impiego questi erano due problemi di carattere generale uno doveva essere assorbito dallo Stato tutto quello che riguardava il mercato del lavoro e la polizia invece provinciale doveva essere ingobbata nel corpo forestale dello Stato corpo forestale dello Stato che è stato sciolto a suo volo quindi i problemi ci sono i rischi sono tutti lì sul tavolo e io ho l'impressione che si stia aspettando perché poi contemporaneamente sono stati tagliati i finanziamenti alle province addirittura una legge dello Stato approvata pochi giorni fa elimina le province dalla Costituzione che si aspetti il dissesto delle province per poter mandare le persone a casa e sulle polemiche delle ultime ore sul paventato trasferimento dell'alberghiero De Cecco a Cepagatti abbiamo ascoltato il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio Rapposelli fino all'anno scorso ricordiamo vicepresidente della provincia e assessore alla pubblica istruzione e edilizia scolastica lo ascoltiamo nel servizio questa matassa dell'alberghiero resta molto ingarbugliata voi siete contrari credo al trasferimento però l'ultima butade del consigliere provinciale Palozzi e dell'assessore regionale di Matteo credo che ha del folle è una follia è una follia pensare di trasferire l'alberghiero fuori da Pescara per una serie veramente interminabile di motivi il primo che è un trasferimento di questo tipo va totalmente a scapito dei docenti dei 350 docenti dell'istituto poi ci sta da considerare ovviamente i grandissimi disagi a scapito di tutti quanti gli alunni che ricordo sono oltre 1860 in più c'è da dire che questa decisione va anche in controtendenza rispetto agli investimenti che sono già stati fatti io ricordo e vi vorrei ricordare che all'alberghiero di Pescara si sta trasformando una palestra per adibirla in laboratori questa è un'opera che costa ben 2 milioni 860 mila euro che fine faranno questi 2 milioni 860 mila euro se domani l'alberghiero non starà più in quella sede di via De Sabini sono soldi buttati idem cum patatis per tutti quanti gli investimenti fatti al cupari di Alanno questa è una decisione un'idea un progetto non so neanche come definirlo che non può camminare veramente non ha le gambe per andare avanti il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara ha nuovi arredi grazie al progetto portato a termine dall'associazione Adricesta che ha consentito l'acquisto di letti culle comodini armadi e poltrone letto per i genitori che assistono i propri figli l'Adricesta mette un altro tassello importantissimo nel reparto di chirurgia pediatrica è una storia che inizia con un dolore nel cuore e finisce con un gesto di grandissima nobiltà è un sogno era un sogno quando per motivi analoghi io e il mio marito andammo a Roma al Policlinico Gemelli e ci rendiamo conto che entravamo negli anni 90 in una realtà completamente diversa da quella che era quella di Pescara e poltrone letto per il genitore che assisteva molto comfort e anche e soprattutto per il bambino e tante cose sono state fatte qui a Pescara perché dal punto di vista medico sicuramente l'eccellenza c'è però in effetti il comfort lo lasciava desiderare con degli arredi obsoleti e ricordo che mio marito disse noi siamo andati a Roma ma molti genitori non possono andare a Roma quindi è giusto fare qualcosa anche qui e in occasione della serata dedicata a lui nel 2013 abbiamo pensato di arredare una cameretta all'inizio era una cameretta per i bimbi più piccoli da 0 a 12 mesi poi il risultato fu eccezionale ne arredammo due però da lì fumo sollecitati da alcuni genitori e alla fine abbiamo preso tutto il reparto quando li vedremo saranno bellissimi addirittura li abbiamo fatti anche più belli di quelli di Roma perché mi ho detto noi ci abbiamo messo un po' più di tempo ma l'abbiamo fatto e quindi il sogno che era nel cassetto del socio fondatore della Dicesta e soprattutto del nostro ispiratore di Buoni Propositi che era Giampiero Benzino rimane così infatti il reparto è dedicato a lui ci sarà una cameretta che c'è stata proprio una donazione di Alessandro Preziosi e della mia famiglia che è dedicata a lui da parte nostra ma si sono mobilitati tutti gli imprenditori le forze dell'ordine tanti sono stati è stata veramente una grande cordata di solidarietà Ed ora la pagina degli appuntamenti nel weekend si svolgerà Cepagatti Arte un evento dedicato a vari aspetti dell'arte abruzzese fortemente voluto dalla locale amministrazione comunale Sindaco Cepagatti Arte è un'occasione importante per Cepagatti per propagandare un'importante manifestazione di cosa si tratta in concreto Tutta l'amministrazione è coinvolta nella decisione appunto di svolgere nel nostro territorio qualcosa che va oltre il quotidiano che tocca le anime che tocca le passioni è un compito anche della politica e dell'amministrazione fare in modo che la gente la comunità viva anche di questo sviluppa e promuova il suo territorio con eventi culturali Cos'è Cepagatti Arte? È un'iniziativa che vuole cercare di fondere insieme il più possibile diverse forme di arte si parte dalla letteratura si va verso la musica e soprattutto attraverso la fotografia ci saranno ospiti importanti come Angela Nanetti una prima giornata pensata per il mondo delle scuole perché è anche un concorso è rivolto ai ragazzi delle scuole del comune di Cepagatti in più c'è un importante autore come Diego De Silva che verrà a fare un reading accompagnato dal musicista Piero delle Monache nella giornata di sabato e ci sarà anche un momento con Stefano Lista che sarà dedicato alla fotografia con una sua lezione l'ultima giornata domenica invece è dedicata al concorso di scrittura per un racconto inedito dedicata invece aperta non per il mondo delle scuole siamo particolarmente felici per questa prima edizione sono arrivati 81 racconti da tutta Italia e quindi è stato un buon segno positivo in più per tutta la durata delle tre giornate al castello Marcantonio di Cepagatti sarà possibile per il pubblico visitare una mostra di fotografia e votare l'opera che più preferisce Alvia domenica 18 la 22esima stagione concertistica dell'associazione orchestrale da camera Benedetto Marcello che quest'anno sarà inaugurata da uno straordinario evento nel nome di Joan Sebastian Bach che verrà realizzato presso la cattedrale di Teramo e sarà introdotto da una prolusione teologica del Vescovo vediamo Alvia il 18 ottobre la stagione concertistica qui a Teramo quale sarà il calendario quest'anno? Il calendario è ovviamente ricco come tutti gli anni stagione concertistica 2015-2016 che si apre il 18 ottobre alle 11 alla sala San Carlo del Museo archeologico con un aperitivo quest'anno seguita con i solisti dell'orchestra il 25 ottobre con il maestro Damerini al pianoforte con l'orchestra da camera Benedetto Marcello diretta dal maestro Ruffini nell'integrale dei concerti di Bach per pianoforte e orchestra e sempre ricchi gli appuntamenti si tratta di 4 concerti del solista e dell'orchestra e di 11 appuntamenti come aperitivo in una prima parte al Museo archeologico nella seconda parte dell'anno nel 2016 all'auditorium del Hotel Abruzzi e poi ci sarà un appuntamento domenica 25 ottobre al Duomo al Duomo nel corso di questi anni accanto al maestro Ruffini abbiamo tenuto più volte concerti anche a Firenze si è sviluppato questo progetto come le dicevo dell'integrale dei concerti di Bach quest'anno in quanto abbiamo e si ritiene sempre più che la musica di Bach nasca da un intento soprattutto spirituale che accosta sempre di più la musica del grande compositore tedesco al messaggio sacro per cui anche questo tipo di discorso è molto piaciuto al Monsignor della sua eccellenza Monsignor Seccia che ha accettato di tenere il primo concetto in cattedrale ed ora la pagina sportiva per la seconda trasferta consecutiva il Pescara sabato è atteso dalla gara di Trapani previsti i rientri di Verre e Mandragora ma non quello di Memuschai che non è al meglio in difesa probabile impiego dal primo minuto di Ugo Campagnaro vediamo il servizio ce ne ha guato l'ex SS Cosmi sulla strada del Pescara la gara contro i siciliani guidati dal tecnico perugino però lascerà poco spazio ai sentimentalismi anzi il trainer siciliano sta preparando a dovere la gara a cui tiene tanto dopo l'addio a Delfino di due stagioni fa la squadra di Massimo Oddo non può però permettersi altri passi falsi la sconfitta di Ascoli brucia ancora e il modo migliore per metterla definitivamente agli archivi è uno solo fare risultato al provinciale una sfida quella con gli isolani che potrà dire molto o comunque abbastanza sullo stato di salute di Fiorillo e compagni fare bene sull'isola sarebbe importante per la classifica ed il morale di un 11 che fino ad oggi ha raccolto meno di quanto ha seminato per questo nella gara di Trapani servirà un pescarabello ma soprattutto concreto sul fronte formazione Oddo medita variazioni rispetto ad Ascoli in difesa con un Fornasie non al meglio e ancora frastornato dalla brutta prestazione del Del Duca spazio dal primo minuto a Dugo Campagnaro a centro campo torneranno a disposizione e probabilmente anche in campo Mandragora e Verre Memuschai invece non è al meglio così come Bruno in avanti spazio alla coppia La Padula-Cocco Trapani-Pescara sarà diretta da Ripa di Nocera Inferiore Maggiore cattiveria Marco Perrotta nella dopogara della partita contro il Pisa sprona i suoi ad avere fame di vittorie per riscattare e confermare il campionato vinto lo scorso anno in servizio di Andrea Costantini Perrotta quanta sfortuna Sì, tanta era una partita da vincere però siamo contenti della prestazione dobbiamo continuare su questa strada perché prima o poi i risultati arriveranno siamo tranquilli perché ognuno è con la coscienza guida sapendo di aver fatto il proprio lavoro quello che ci ha chiesto il mister quindi dobbiamo solo aspettare con tranquillità che la ruota gira dalla nostra parte e dobbiamo continuare così Abbiamo avuto molte occasioni eravamo padroni del campo volevo fare anche complimenti al Pisa perché comunque è stata secondo me finora la miglior squadra allenata da un ottimo mister e quindi faccio i complimenti a loro anche se potremmo vincerla Un mancato stop di Ciani ha tagliato fuori un po' tutta la difesa lì sul gol di Verne Sì, sì veramente l'ha toccata con la punta stiamo tutti aggredendo la palla non ci aspettiamo che la toccasse e abbiamo preso gol ci dobbiamo lavorare su questi errori perché dobbiamo prendere il meno gol possibile perché a fine camionato questi gol possono fare la differenza Un terreno che a finora però ha raccolto meno rispetto a quanto ha fatto Sì, ha raccolto meno però le prestazioni ci sono quindi come ripeto dobbiamo star tranquilli noi sappiamo il nostro valore dobbiamo solo venire fuori e far vincere qualche partita per rimetterci in carreggiata per noi il campionato è iniziato oggi perché eravamo a zero oggi siamo a uno quindi abbiamo stati tranquilli mancano ancora 35 partite quindi va bene Mi sembra che la tenuta atletica della squadra sia stata ottima Sì, sì il prof ci viene molto aggiornati e ci fa correre molto quindi perché noi dobbiamo sicuramente correre il doppio degli avversari noi dobbiamo mangiarceli in campo dobbiamo essere padroni del nostro campo perché quando giocano in casa non ce n'è per nessuno noi dobbiamo vincere tutte le partite e dobbiamo far vedere chi siamo perché noi abbiamo vinto un camminato e quindi non dobbiamo perdere mai l'onore E Pescara ospiterà domenica 18 ottobre la quindicesima edizione della Maratona Danunziana che si correrà sulla distanza dei 42 chilometri vediamo nel servizio la presentazione Alberico di Cecco torna domenica prossima a Pescara la Maratona Danunziana quindicesima edizione tante le novità per questo appuntamento Sì devo dire una Maratona che è di per sé sempre più un brand perché poi intorno all'evento di 42 chilometri e 195 metri riusciamo e si aggregano tante belle realtà anche sociali del nostro territorio parlo soprattutto per quanto riguarda la passeggiata che quest'anno intitoliamo a Duiglio Fornarola che l'anno scorso proprio nella Maratona di Pescara ci ha abbandonati per sempre e faremo tante belle iniziative insieme proprio alla famiglia e alle associazioni vicine a Duiglio non ultima forse la più bella quella che resterà per sempre a noi pescaresi e lasceremo nel punto dove Duiglio ci ha lasciato una targa al ricordo di quel giorno dopodiché si parte si sorride si soffre e si riesce fondamentalmente a cercare di fare ancora meglio degli altri anni ci mettiamo a disposizione e organizzeremo come già nel passato il campionato regionale WISP che vedrà appunto gareggiare gli atleti WISP i migliori d'Abruzzo ci sono tutti e speriamo possano fare una bella gara noi staremo a vedere questo bel evento tecnico la quindicesima edizione un evento che oramai è diventato un evento importante non solamente per la città di Pescara ma io penso per tutta la regione perché riuscire ad arrivare a questi numeri come oramai gli organizzatori mi dicono che pensiamo e speriamo di raggiungere le 2000 presenze vuol dire essere diventate una delle maratone più importanti d'Italia ed è tutto per questa terza edizione del TG6 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per l'attenzione